Buongiorno a tutti e benvenuti nella nuova Laika Gallery di Milano, un nuovo spazio che abbiamo appena aperto, che Laika ha appena aperto qua, proprio nel centro di Milano, a due passi da Piazza Duomo. Siamo molto felici e orgogliosi di questo successo, di questo traguardo che abbiamo raggiunto, che ci ha costato, ha richiesto un anno di lavoro, un anno di passione, però crediamo che il risultato sia molto valido, sia molto buono, non soltanto per noi di Laika, ma crediamo anche per la città di Milano, perché vogliamo che diventi proprio un punto di riferimento per la città di Milano, per quello che riguarda la fotografia, la cultura fotografica. Infatti lo spazio servirà sicuramente per l'esposizione di mostre. Inauguriamo con una mostra che Magnum ha realizzato proprio per noi, che si chiama The Right Moments, e vede una collettiva di fotografi Magnum di varie epoche, da Riccardo Ibrisson a Steve McCary, a Alex Maioli, a Jonas Bendix, insomma tanti fotografi importanti che hanno fatto la storia della fotografia e la stanno facendo oggi. Quindi anche per questo siamo molto orgogliosi. L'obiettivo della Laika Gallery è quello di sicuramente avere mostre importanti di grandi fotografi, ma anche di fotografi emergenti. È una cosa sulla quale noi puntiamo molto, infatti negli anni abbiamo proposto dei concorsi dei talent per scoprire proprio dei nuovi fotografi emergenti, per aiutarli insomma a entrare nel difficile mondo della fotografia e quindi la volontà è proprio quella di alternare quelli che hanno fatto sicuramente la storia della fotografia, ma anche giovani fotografi di talento che si affacciano per la prima volta quasi insomma al mondo della fotografia. È importante dire che abbiamo una collaborazione con Fondazione Forma e con Contrasto che ci aiuterà appunto nella realizzazione delle mostre, ma anche con il nostro bookshop. Infatti nella Laika Gallery potete trovare anche dei magnifici libri in vendita, un catalogo che ci ha forinto Contrasto veramente molto ricco, molto importante e comunque vogliamo far diventare questo spazio, uno spazio dinamico con incontri con fotografi, con letture portfolio, con presentazioni di libri, insomma vogliamo creare proprio degli appuntamenti che si andranno a scandire nel corso dei mesi, degli appuntamenti fissi dove alla Laika Gallery si potrà trovare sempre qualche cosa da fare, da dire e da raccontare per quello che riguarda la fotografia.